Ciao a tutti e tutti ben... No, io sono vecchio, non è saltato per l'aria, no! Vabbè, forse se lo aspettavo che avrei registrato Stiamo andando, attualmente, a San Martino Non vi farò vedere tutta la mia giornata Perché, vabbè, più tardi devo andare anche al lavoro Però... Però, vi porto a vedere il presepe Al paese dove abita lui, ma al paese di mia mamma Volevo che ci stava anche mamma, però purtroppo non è possibile Quindi, molto probabilmente, registreremo solo 1 e 2 Il problema principale È che la fotocamera esterna del mio telefono mi ha abbandonato Quindi, un pochettino a quello che esce, purtroppo Non l'ho fatta apposta, mi è un po' caduto il telefono Si è un po' spaccata la telecamera Anzi, le telegram, perché era 4, vabbè Lasciamolo perdere Maggie, è un pericolo pubblico Vuoi dire qualcosa? Ah, saluti soltanto alla chi... Buon Natale Eh, giusto, buon Natale Perché per noi oggi è 25 Però ancora non ho pubblicato mezzo video Bene Non li tocca... Eh, parla Vabbè, ci sto in tutte le... No, è più avanti quello con mamma in Gesù Questa ne ho... No, non ti riprendo, Mario Quella è l'entrata della sagrezia E lì fuori Lì fuori Ce ne sono altre due Lo so Ma che se qua c'è il mio La canna di bambù Ma si sono dimenticate alcuni personaggi qua Ma io lo ripendo così poi lo faccio vedere Sì, quasi Però vedi quanto è bellino No, sono false Comunque abbiamo ricattato anche mamma perché mi sono scorruta delle cose a casa E quindi è dovuta venire anche lei E ci sta portando in giro Per il centro storico E nulla Comunque mi presterà gentilmente il suo telefono Sì, vado lì dietro del castello Mi viene Eh, la cicerona ci sta portando a sperdere Per me è sperdere Per lei no Perché del tipo la faceva sempre quando era piccola tutta questa strada E poi erano fattiati tutti gli accompagnati Eh, però aspetta un attimo E vengo un po' più avanti così parli Va Era una fattiati per me Ci ha gli accompagnati tutta qua Questa già c'era? No, no Questo l'hanno fatto Tutti i monumenti di queste cose l'hanno fatto tutti dopo Ok Vi sto portando alla scoperta di San Martino Valle Caudina Eh, nulla Se vedo qualche cosa Eh, non lo so Comunque Come non ci stava neanche questa scalinata Questo è tutto due cose che hanno fatto di recente Però è comoda, vedi? Ok, io adesso stacco perché sono cado E il telefono non è mio in questo momento Qua a tempi antichi In questo passaggio qua Eh, si è attraversata Eh, si è attraversata Vabbè, qui c'è io Pino E c'è anche una minita scata Mamma mia C'è l'acqua qua è pulita Mi meraviglio perché l'acqua è pulita C'è pulitissima Limpida C'è Allora, qui c'è un pescatore Mamma qui che si stava la vasca stavi dicendo Lì c'è un'altra parte di presepe È come se fosse formata delle vasche, vedi? Guarda Sì C'è questa caduta dell'acqua Noi c'è l'avevamo i panni Oddio, figo Questa è un'altra parte del presepe che sto facendo vedere Pensavo che si erano dimenticati qualcuno Lì invece sta seduto da quest'altro lato Secondo me noi qua lo stiamo prendendo al contrario il presepe Vabbè sì Perché da giù dovremmo prenderlo a bella uguale Nel mio di direttamente prima Sì Cioè guardate qua quanto è bello qua Pi continua Cioè veramente molto bello Cioè guardate qua